Allora, il mood di quest'anno è fare creazione con questi tipi di ceppi poiché penso che oramai ne abbiamo viti tutti i colori io non volevo proprio riproporlo però ho avuto una grandissima idea e quindi mi metto a creare e mi infilo anch'io nel mood della creazione natalizia e vediamo cosa ne esce fuori e vediamo cosa ne esce fuori and there is just one thing I need and I don't care about the present I don't need the Christmas tree I don't need the end